Bella regà, sono Pappa del Pappa Barbershop Oggi andremo a vedere una nuova clipper Quale? La nuova X Ergo Quando esce la Ergo? Esce il 10 febbraio In America è già uscita da qualche mese Non so se avete fatto caso, se vedete i video su Instagram In America già la usano in tantissimi Infatti io Arrivata, la sto usando Da 2-3 giorni Ho preso 3 altri clipper, l'ho presa tutte insieme Così, ho fatto un mucchio L'ho spostata e ho lasciato soltanto lei Perché regà mi dito veramente tanto bene A fare qualsiasi tipo di lavoro Perché l'ho provata sia su Fade, sia sull'Hout School L'ho provata sul taglio lungo È versatile, io ve la consiglio Il prezzo poi non è neanche Tanto alto, anzi è basso In confronto a quello che dà, perché viene 140€ più o meno A quel prezzo non trovate una clipper che vi dà così Tante opportunità, questa potete smontarla E rimontarla a vostro piacimento Potete usarla come volete Ora la apriremo insieme e andremo a vedere come funziona Allora, adesso andiamo a vedere Il packaging Calamita Per chiusura Che abbiamo tutte quante le info Andiamo a vedere adesso cosa c'è nella scatola Queste sono tutte le combinazioni che possiamo creare Con le cover che stanno già all'interno Qui abbiamo La clipper Con la cover Argento già messa Mentre qui abbiamo le altre due colorazioni Oro rosa e oro Questa è quella oro Mentre questa è quella oro rosa Molto bella Qui invece Troviamo la postazione per la ricarica Andiamo a vedere sotto cosa c'è Allora troviamo il cavo d'alimentazione Troviamo i misurini I misurini ragazzi sono calamitati Che vuol dire Che nella parte dietro Vi faccio vedere Nella parte dietro Hanno la calamita In questo modo voi non ve la perderete mai Sulla clipper Rimarranno sempre attaccati Infatti vedi si attaccano anche tra di loro Qui invece troviamo le levette E lo stretch Che ora vi spiegherò a cosa serve Noi con questa clipper Possiamo fare tantissime cose Tutte le combinazioni che vogliamo Perché noi Questa leva qui Possiamo impostarla sia con il click O sia in freestyle Io ora ce l'ho in freestyle Cosa vuol dire In freestyle Che non avete il click Ma libero Invece se impostate il click Con queste altre manovelle Sentirete click Ad ogni spostamento di misura E questa cosa è molto bella Perché possiamo decidere noi Come lavorare Io infatti L'ho subito cambiata Perché mi trovo meglio Con il freestyle Ma conosco tanti colleghi Che vanno meglio Con il click Poi dentro troviamo Sempre altre due parti Della copper Perché possiamo lasciarla Sia trasparente Oppure possiamo metterci Le cover sopra Io le preferisco trasparente L'ho lasciata argento Perché si abbina con La mia hitter Che è sempre argento Qua troviamo gli altri misurini Che arrivano fino alla misura Numero 6 Che equivale a 19 mm Tutti calamitati Qui abbiamo il manuale d'uso E la garanzia E l'adesivo Barberoot Della gamma Più Ma adesso andiamo a vedere Le funzionalità Partiamo dai giri del motore Quanti giri ha? 10.000 giri al minuto E' super silenziosa Forse dal video Non rende Ma è super super silenziosa Zero vibrazioni E' leggerissima E ha dentro questo motore Non potente Qualcosa di più Poi troviamo la lama Che è fatta In diamante di carbonio Vabbè è spettacolare Veramente spettacolare Non lascia Un capello fuori E' super resistente Ma nello stesso tempo Leggera Questa qui L'ho fatta diventare Uno 0.0 Ok Quindi si può Svitare E modificare E portarla ancora più bassa Vedete Questa è proprio Uno 0.00 E questo Ti va a togliere Anche la riga Del trimmer Dura Due ore Dura 120 minuti Perché dentro Abbiamo la batteria al video Che dire Magari se volete Un video tutorial Di come Smontarle Rimontarle Di come abbassare la leva Di come alzarla Di come Come cambiare la cover Come cambiare le vetta Potete chiedermelo E farò un altro video Tutorial Per spiegarvi Tutto questo Ora non l'ho fatto In un solo video Perché sennò Diventava troppo lungo Quindi Chiedo a voi Se volete Vi posso fare un altro tutorial E vi spiegherò bene Tutto quanto Per oggi Da Vap è tutto Ci vediamo Alla prossima Alla prossima Alla prossima